Musica Musica la patenza di questa medesima edizione, siamo stati graziati assoluto, grazie allo svolto da tutti gli uomini di Reregana Live e di Bruno Vandello. Giuseppe Piovese con Eric Ropin, è arrivato 111-122 al Valle d'Aosta, non è ritrovato qua a Piedra. Questo è l'importante, se siete interessati a partecipare, è stato importante, insomma, tutti cercano di vincere, ma l'importante è partecipare, divertirsi, come giustamente sottolineato da Giuseppe Pugliese al Volante ed Eric Ropin alle notte alla Primolana, su Primolana che è arrivato qua all'orto sonore di cento della Valle d'Aosta. Grazie. Beh, io sto ciclino a se La città è una città di Bacchia, un po' di più grande, un po' di più grande. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.